Qualche giorno fa, nei tre minuti Grezi, mi lamentavo dell'assurdità dell'essere costretti a usare i guanti di plastica quando si mettono le banane dentro il sacchetto al supermercato, perché la gente è paranoica, ma anche le mele, anche le pere, la gente che ha problemi è quella che arrivata a casa morde la mela, morde la pera o mangia la buccia della banana senza prima avere lavato la frutta. Il mio amico Alessio, che ascolta con attenzione il mio podcast giornaliero, però lo fa mensilmente, quindi si spara una ventina, una trentina di episodi uno dopo l'altro, ieri ha fatto uno dei suoi ascolti continuati e poi mi ha mandato dei messaggi con i commenti e uno di questi mi ha fatto pensare, perché sono assolutamente d'accordo con lui. Il suo commento era questo. La gente se la prende tanto e tanto paranoica con i guanti di plastica al supermercato, che poi a casa la frutta comunque una persona ragionevole dovrebbe lavarla, però non ha nessun problema a entrare nei camerini e a misurare l'abbigliamento, anche intimo, toccato e misurato da chissà quanti altre persone. Ecco, quello del misurarsi gli abiti è un problema che io non mi ero posta. Io sono una assidua frequentatrice dei negozi di seconda mano, dove è ovvio che gli abiti non solo sono stati toccati, ma anche indossati da altre persone. Devo dire anche la verità che non sempre ho la pazienza di sciacquare tutto prima di indossarlo. Questo è un problema. Io sono stata educata da mia mamma che lei lava sempre tutto, anche le cose appena prese dal negozio, ancora incartate. Lei se non si lava non si indossa. Io diciamo che non ho seguito gli insegnamenti materni. Ahimè, non lavo mai le cose comprate nel negozio e a volte, quando ho molta fretta di indossare qualcosa, neanche se lo compro non si dovrebbe. E mi viene in mente, ma quali sono le malattie che si trasferiscono attraverso la stoffa delle maglie, dei pantaloni? Non sono sicura. La lebra, sicuramente la lebra si trasmette con la peste, ecco la peste. Ricordo che bruciavano gli abiti delle persone appestate, però non mi risulta che dopo il covid ci siano state grandi ondate di malattie, tipo appunto la peste. Però pensiamoci, a volte ci concentriamo su certe cose, diventiamo veramente paranoici e ignoriamo completamente le altre. Vabbè, cercherò di lavare sempre tutto prima di indossarlo una volta acquistato, anche nel negozio, anche se non ho in mente di comprare molte cose.